Arriva in anticipo quest'anno il Narnia Terror Night, l'evento ormai giunto alla sua settima edizione si svolgerà come sempre alla Cinema Monicelli di Narni, tutti i particolari. Torna anche quest'anno il Narnia Terror Night, evento organizzato dal regista Eros Bosi. Appuntamento a Narni, venerdì 31 maggio alle ore 21. Ogni anno ho sempre una certa soddisfazione, sia quando presento cortometraggi miei, come quest'anno c'è il Richiamo della Strega, il mio nuovo cortometraggio per la prima volta sullo schermo, e quando ci sono edizioni come l'anno scorso, per esempio, che non c'erano lavori miei. Per me è sempre un vero piacere sostenere l'India Horror Italiano dei film di altri registi di altre zone d'Italia, di altre città. Quest'anno sono provenienti dei registi? Ci sono delle new entry, delle riconferme? Beh sì, c'è un film di Lorenzo Lepori, Notte Nuta, che è l'unico lungometraggio, che lui è già la terza volta che partecipa a Narnia Terror Night. E poi quest'anno la new entry, tra le new entry, perché diciamo che è un cast tutto nuovo, c'è anche Brando De Siga, il figlio di Cristian, con il suo ortometraggio Aria. La nuova edizione avrà come location ancora una volta il cinema Mario Monicelli di Narni e ancora una volta i prezzi per l'intera rassegna avranno un costo di soli 5 euro.